Ciao tesorini, oggi finalmente il video sulla mia agenda, la mia Filofax Personal Raspberry Saffiano su come l'ho organizzata, me l'avete richiesta in tantissime ed ecco qui finalmente il video quando vado ad aprire l'agenda ovviamente qua c'è la mia penna che ve l'ho fatta vedere anche nel video dei miei acquisti che me l'ha regalata Andrea questa qui con il flamingo, che ormai è flamingo ovunque, fenicotteri rosa ovunque e poi qua abbiamo le clips, queste qua ho scelto quelle di Tiger del gelato che mi piacevano tantissimo qui ho invece una clips che mi ha regalato Paola Style e poi qui abbiamo dei post-it ma che non tocco mai perché mi piacciono troppo che escono i due coniglietti di qua quindi non li andrò a consumare mai qui dentro, dentro la tasca, ho tutti i vari stickers, stickers comunque stampati senza poi plastificarli li ho lasciati così normale, li vado a ritagliare e poi ad incollare con la classica colla questi qua me ne ha fatti la mia migliore amica Maria Cristina e li trovo veramente adorabili sono con i Minions, con i Mi Piace di Facebook oppure con le Emoji che io scopazzavo per le Emoji e poi ci sono i classici invece adesivi di Tiger questi qua con i cuoricini che sono veramente un amore poi nella parte davanti ho messo questi due card che ho fatto stampare da Mo, se non mi sbaglio si chiamava così, poi magari scriverò tutto nell'info box e li ho messi qua ovviamente con gli unicorni perché come sapete adoro gli unicorni nella parte questa qua davanti ci sono i post-it sempre che mi ha regalato Paola Style che sono veramente super super utili e poi come dashboard, anche se comunque i post-it li ho messi qua e non attaccati nella classica plastica che si mette davanti con i post-it c'è questo qui e i divisori che vedete in questa agenda e anche questa parte qua me l'ha fatta sempre la mia amica Maria Cristina sotto il mio consiglio perché io veramente ancora non mi sapevo muovere bene né con la plastificatrice né a posizionare comunque tutti i vari dati per stampare le cose all'inizio abbiamo la pagina, questa qua ovviamente plastificata con il mio nome Corinne l'arcobaleno e l'unicorno poi girando ho voluto lasciare il foglio della Filofax, questo qua rosa perché mi piaceva tantissimo e sotto di questo ci sono le mie informazioni personali passiamo ai divisori il primo divisorio è il to-do il to-do per me è importantissimo perché non posso fare a meno del to-do perché sono tutte le cose che mi devo ricordare che siano video, che siano cose che devo comprare quindi per me è una parte fondamentale dell'agenda e quindi l'ho messa proprio all'inizio nei to-do ci sono anche questi qua fatti così che li ho presi su un negozio su Etsy è Filo Delight che lascerò le informazioni nell'info box di questo negozio se vi può interessare la ragazza è gentilissima e si chiama Isabella poi qua ci sono i classici to-do della Filofax, diciamo che li utilizzo e non li utilizzo poi c'è il divisorio per Youtube, questo qui è veramente bellissimo dove all'interno io vado sempre a scrivere comunque i video che devo fare oppure qualcosa che devo prendere per i video e poi partiamo, passiamo all'agenda, l'agenda proprio nel vero senso della parola ho messo sempre qui le classiche card, queste qua con gli unicorni il piccolo righello questo qua di Filofax che è utilissimo soprattutto per segnare i giorni o comunque le settimane all'interno dell'agenda e poi mi sono ricreata un bullet journal questo qui per me è fondamentale per capire cosa devo fare in quel giorno cosa non devo fare in quel giorno ad esempio i quadratini, questi qua mi ricordano gli impegni con Youtube che siano video poi il cerchio e la palestra perché come sapete vado in palestra il cuore sono tutte le cose che riguardano Andrea quindi scena con Andrea, esco con Andrea l'hashtag, i videogiochi e poi qui ho fatto il quadrato, il cerchio e il cuore se sono ovviamente pieni sono le cose che ho completato o che ho semplicemente fatto e invece se hanno una X al centro è perché li ho rimandati al giorno dopo o comunque è data da destinarsi poi girando ho proprio una vera leggenda ad esempio quando vado a scrivere con il pennarello viola so che è una cosa che riguarda la palestra rosso, una cosa che riguarda Youtube perché Youtube è rosso quindi io molto così semplicemente mi vado a ricordare che c'è un video comunque qualcosa inerente a Youtube l'arancione, i videogiochi il verde è il drenante perché io sto utilizzando il drenante e quindi vado a ricordarmi che il verde l'ho preso non l'ho preso, cosa devo fare e cosa non devo fare e poi con quello rosa fucsia le cose che riguardano Andrea quindi c'è ne come ho detto prima, eccetera poi ci sono due post-it questo qua piccolo che serve per gli impegni veloci ovvero qualcosa di non tanto importante ma che comunque devo andare a fare e poi questo qua grande per impegni super importanti quindi qualcosa che io devo assolutamente fare e portare a termine e quindi lo vado a mettere nell'agenda qui abbiamo il divisorio proprio dell'agenda che mi piace tanto non vi faccio vedere l'interno dell'agenda perché poi magari se volete mi scrivete qua sotto nei commenti se volete anche un video di come decoro l'agenda quindi fatemelo sapere, mi raccomando e poi il divisorio del make-up il make-up questo qua ho deciso di posizionarlo qui subito dopo l'agenda perché per me è importantissimo ed ecco qui qui ho messo ad esempio gli smalti di Kiko ad esempio l'ho diviso in vecchio stile e qua ci sono tutte le tonalità di colore con tutti i numeri perché ho fatto questa cosa? non per complicarmi la vita forse anche sì ma perché quando vado ad esempio da Kiko o in qualsiasi altro negozio voglio subito vedere i colori che ho e che non ho perché è capitato che ho comprato spesso degli smalti uguali e poi sempre le stesse cose quindi evitiamo poi girando ci sono gli altri questi qua speciali e ho scritto anche il numero ho scritto anche che cos'è la particolarità gli sugar matte i poker e i cupcake stessa cosa ho fatto per i rossetti perché per me è fondamentale sapere che rossetti ho e che rossetti non ho la lista del make up e delle cose che devo andare a comprare infatti ho scritto ad esempio il fondotinta di Kiko 3D lifting che ve ne ho parlato tantissimo nei miei video e manca la cipria stessa cosa e il ghost amer Kiko non ho messo numeri perché li vorrei tutti ma è una cosa impossibile poi il divisorio per le Yankee Candle che ancora ovviamente non ho scritto nulla ma fatemi sapere se volete che vi mostro poi come lo organizzo come lo decoro scusate e poi I love my games che è uno spazio dedicato interamente ai videogames ad esempio cosa sto giocando in questo periodo cosa ho terminato e cosa vorrei comprare o comunque fare poi abbiamo le due card di Alice in Wonderland perché dovete sapere che mi piace tantissimo Alice in Wonderland e tutti i film di Tim Burton girando qui abbiamo le wishlist che mi ha fatto la mia amica e poi anche altre wishlist che ho preso nel negozio Etsy quello che vi ho detto prima sempre wishlist mese, date e mi sento questo qua mi piace tantissimo me l'ha fatto Paola Style mi piace tantissimo la ragazzina questa qui così col costume perché mi rispecchia tantissimo e poi con la palestra che sto facendo devo mantenermi comunque sistemata col mangiare quello che mangio e quello che non mangio con le attività fisica e poi i contatti i contatti ancora non li ho scritti perché sinceramente non so neanche se andrò a scrivere però mi piaceva troppo e lo chitti e l'ho messo ho lasciato la pagina di Filofax quello là del classico calendario così almeno sempre focalizzato subito quando voglio vedere un giorno lo vado a vedere qua ho lasciato anche le varie festività religiose tanto così per ricordarmi qualcosa ed evitare di fare brutte figure in giro le note questo qui che è vuoto e poi ho deciso di lasciare la pagina trasparente di questo qua che c'era già con l'agenda l'ho lasciata non all'inizio ma alla fine per andare a proteggere poi questa qui che è la foto di Andrea che l'ho fatta praticamente con un cartoncino bianco classico e poi la sono andata a decorare con i washi tape e poi ho messo queste pinzette per tenere bene la foto che posso andare a cambiare tranquillamente perché ancora qui è aperto e quindi è molto molto faigo e poi qui ho scelto il colore fucsia che ho preso da un cartoncino della Mo che mi hanno inviato le card all'interno di queste due bustine trasparenti perché sono due qui troviamo tutti gli adesivi sia questi qua che io vado a ritagliare e incollare con la colla sia quelli là proprio adesivi e poi anche qualche cosina in piccolo le altre card di Tim Burton perché adoro Tim Burton e poi c'è la bustina che mi ha regalato Paola Style che ho vinto col suo giveaway e qui c'è sempre Alice in Wonderland sono malata lo so i cagnolini perché mi piacciono tantissimo gli animali e poi altri post-it alla fine di questo c'è semplicemente il block notice questo qua di Filofax che per me è veramente importante perché quando io ho bisogno di andare a scrivere una cosa velocemente lo scrivo subito qui in questo diciamo block notice e quindi per me è fondamentale andando a chiudere l'agenda questo era come io ho organizzato l'agenda è diventata veramente cicciottona cicciottissima però non ci posso fare niente mi piace sempre metterci nuovi divisori e soprattutto le eclipse che prendono tantissimo spazio il video di come ho organizzato l'agenda finisce qui fatemi sapere mi raccomando giù nei commenti quale agenda avete voi e se volete che vi mostro come poi l'ho decorata come continuo a decorarla e cosa utilizzo soprattutto per decorarla e niente io spero che questo video vi possa essere utile che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video e io vi mando un grandissimo bacio a tutte ciao iscriviti al canale